Ecco, noi questa cena di San Giuseppe la vogliamo realizzare, la realizziamo intanto per alimentare la nostra collaborazione con le famiglie, per far rivivere una tradizione che è molto forte qui a Gela e perché le nuove leve, gli alunni giovani possano rivivere e non far morire questa tradizione e inoltre per dare il senso della solidarietà, infatti noi non rappresentiamo i personaggi, non facciamo rappresentare i personaggi da tre persone indigenti ma dai bambini. Tutto il ricavato andrà in favore di tante famiglie indigenti, negli anni abbiamo raggiunto più di 100 famiglie, abbiamo diviso tutto quello che abbiamo ricevuto, le stesse famiglie che hanno realizzato la cena dividono alle famiglie indigenti che si fanno presenti nel nostro istituto. Viva Gesù, Giuseppe e Maria!